Una nuova scuola dell'infanzia nella frazione di Villa Vaumano e l'ampliamento del micronido al parco fluviale è arrivato al comune di Teramo lo che è definitivo al finanziamento di entrambi i progetti per un totale di oltre 2 milioni di euro che dovranno essere cantierati entro non oltre il 31 marzo 2023 e fine dei lavori entro il 2026. È stata una scelta ben precisa legata alla programmazione complessiva delle scuole dell'infanzia del nostro territorio quindi oltre al polo scolastico di Villa Vaumano che sarà realizzato in modo pieno e completo la cassetta sul fiume costituiva e costituisce un investimento importante e significativo su quello che è un gioiellino del nostro patrimonio educativo e scolastico inserito all'interno del parco fluviale ci consentirà attraverso questo finanziamento ottenuto di renderlo un asilo nido a 360 gradi e questo progetto si va anche ad integrare con la riqualificazione del parco fluviale quindi diventa veramente una integrazione importante tra educazione, formazione, sostegno e aiuto e servizi alle famiglie e vocazione ambientale di un territorio che si conferma sempre più green. Per quanto riguarda il micronido denominato la casetta sul fiume diventerà un asilo nido a 360 gradi potendolo ampliare e consentire di ospitare anche i bambini dai 3 ai 18 mesi mentre per la frazione di Villa Vaumano si tratta di un'opera particolarmente attesa dalle famiglie e dalle giovani coppie che potranno avere in loco una struttura a cui affidare i propri figli si parla di una scuola che potrà accogliere 28 bambini dell'infanzia e 8 della sezione primavera 777 mila euro che sono la realizzazione solamente del polo dell'infanzia e che ovviamente prevede in aderenza anche poi la definizione della scuola di quel famoso scheletro che è rimasto lì da tantissimi anni. Anche su quella struttura che oggi andremo a identificare come scuola primaria abbiamo delle interlocuzioni con il ministero, col MIUR che ci consentono di dire che a breve potremo avere anche in quel caso un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo che ci consentirà veramente di realizzare il progetto complessivo di quel polo che da tanto tempo i cittadini della frazione di Villa Vaumano si attendono.